Eccoci, non sa perché ho detto il relatore? Perché tra le varie comunicazioni dei nomi alla fine non era mai arrivato. Se mi dici anche il nome adesso... Si, sono Michael, mi chiamano, perché non sanno pronunciare il mio nome. Nirepaca. Ah, per quello che non l'abbiamo scritto, perché non lo sapevamo. Non era così, non c'era proprio... Ma sono italiano, eh? Quasi. Alto attesino, su Tirol. Un progetto per Fukushima, perché evidentemente ci sono... Prego, a lei la parola. Ok, grazie per l'invito. Allora, sono venuto oggi pomeriggio, so che fate un bellissimo discorso per tutta la settimana, penso, no? Complimenti, proprio questo serve anche per cambiare il nostro mondo, no? Se uno va un po' in giro e vede anche un po' le cose, cosa succede su questo mondo e non è tanto divertente qualche volta. Allora, io parlo di un progetto del Giappone che, sì, è interessante. È proprio un early stage, non è ancora un progetto progetto, ma è proprio in discussione. Della fight or remediation proprio per Fukushima, per quello che è successo a 311, no? Con il reattore. Allora, cos'è la bonifica? Noi cosa facciamo? Innanzitutto, noi siamo BTS. BTS significa Bio Energy Technology and Service. Noi facciamo soprattutto impianti di biogas, siamo il leader italiano del biogas. Facciamo anche gasificazione di legno, abbiamo un impianto rosso in Svizzera, di proprio legno di demolizione, case vengono demolite e poi dopo li utilizziamo per produrre corrente elettrica e calore. Il biogas, come sapete, abbiamo fatto tanto gas adesso con Energy Crops, però tutto si sta spostando adesso sul waste o sui byproducts. Come anche la legislatura adesso non dà più gli incentivi per gli energy crops, proprio per il silo mais o per i prodotti food feed energy, proprio per il food o feed, ma proprio adesso facciamo o veniamo pagati per produrre energia elettrica o meglio il biometano per l'autotrazione o i trattori. Vi ho visto l'anfant, proprio anche con gas e anche là fuori, bello, proprio per il biometano. E questo è il futuro, il waste tradurlo in biometano e poi noi riduciamo CO2 e facciamo anche un fertilizzante rinnovabile. Questo è il nostro background, sono proprietario, io sono 100 dipendenti, stiamo lavorando in Italia soprattutto, ma Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Francia, UK, America e adesso anche in Giappone. E così comunque siamo un'azienda italiana, sul tirolese, che comunque siamo, sì, media azienda diciamo. Però la bonifica è una cosa che mi ha sempre interessato, io sono stato lì tante volte, in Fukushima, ho visto anche i studi di Chernobyl e comunque abbiamo in Italia tanti problemi anche di questi, non solo in Cina, abbiamo problemi anche in Italia. E questo è anche un business, perché senza business non viene neanche salvato l'ambiente, questo purtroppo, o per fortuna, purtroppo è così. E stimano proprio il fatturato globale a 100 miliardi all'anno. Allora, le tecniche di bonifica, noi comunque fighter remediation è un metodo biologico in situ, vuol dire ci sono le varie tecnologie, ma viene fatto in situ, non viene portato via lo suolo, viene fatto proprio in situ. E cos'è? Fyto remediation è proprio l'uso del green plants to remove content or render harmless environment. So, proprio l'uso di piante per rimuovere, contenere o renderli in quini, in quino, in oqui, grazie, scusate l'italiano. Io comunque ho difficoltà e sono di Arezzo, quindi non ti preoccupi. Davvero? Ah, la mia moglie è italiana, così dovrei anche parlarlo meglio, no? Così, va bene. Però questo è il principio, qual è? Il principio è che un contaminante deve essere biodisponibile, altrimenti le piante non lo possono accogliere, logico, e deve avvenire proprio nel ciclo di produzione. Vuol dire io metto la pianta, la pianta assorbe e poi noi la portiamo via. Questo è il principio. C'è anche un altro principio, o ci sono due principi di questo tipo, no? O viene incorporato nel tessuto della pianta tramite l'acqua o le radici lo trattengono e poi dopo viene anche tolto tutto con la radice e tutto quanto. Allora, c'è le tipologie, è la rizzofiltrazione, soprattutto nell'acqua, vuol dire che le piante nell'acqua assorbono i contaminanti e poi dopo viene filtrato, portato via, harvester, non lo so. Fitto-degradazione vuol dire che nel suolo vengono degradati i contaminanti o, come lo facciamo noi, fitto-estrazione, dal suolo viene fissato e poi noi portiamo via le piante. Questi primi test sono già stati molto nel 1983, dobbiamo dire che non esistono tante esperienze di questo tipo, no? Io, l'idea di questa cosa mi è venuta proprio vedendo i docu del T-Chernobyl, dove loro hanno detto che la radioattività è solo nei primi centimetri del suolo, ma mi sembrava non logico, però poi va bene, la pianta con le radici assorbe, poi la pianta muore, poi l'assorbe, muore, assorbe. Questo è un ciclo che viene fatto ogni anno nuovo e poi comunque c'è i contaminanti radioattività solo nei primi centimetri. E comunque questo sarebbe poi il principio. Calcolo teorico, vedete anche l'ho messo lì per dimostrare che è anche una scienza dietro, vuol dire che si può anche calcolare questo effetto. E comunque lì vediamo, c'è a sinistra, sì, anche come da me, c'è Wutz e questo è quello che noi vorremmo fare con la gasificazione. E a destra c'è anche con Mais, Oil Crop, Sweets, proprio col frumento che io ogni anno faccio un harvest, proprio una raccolta. E poi dopo c'è anche l'inceneritore, gasificazione, digestione anaerobica. E comunque quello che vi presento è una combinazione di tutto perché comunque come Fukushima, vediamo, è una contaminazione di un gran aria che comunque c'è di tutto, c'è anche case, c'è dentro tutto, alberi e anche terra agricola. E comunque le diverse specie, come detto, ci sono adesso stati fatti qualche, abbiamo qualche esperienza, ma comunque siamo all'inizio. Perché cosa è successo? Con Chernobyl, soprattutto, non so qui, ma da noi Alto Adige era un po' difficile. Io non potevo più uscire dalla casa, mi ricordo, nell'86 ero nella scuola media e poi lì non potevamo neanche più fare salto perché la sabbia era contaminata, da noi proprio la nuvola si è girata e proprio da noi ha piovuto. E mi ricordo, ora e adesso, anche in Baviera, i funghi in Baviera ci sono delle zone che non li possono mangiare perché i funghi con le ife, loro attirano tutto da tutte le parti. Vuol dire che questo sarebbe perfetto per il nostro lavoro, però comunque coltivare i funghi è un po' difficile. Ma comunque questo è un problema, le specie, diciamo, adesso sappiamo qualcosa, ma loro cosa fanno? Estraggono e accumulano, come detto. Potrebbero fare anche e modificare le caratteristiche del suolo o dei contaminanti, ma noi comunque li rimuoviamo. Poi ci sono, come dimostrato qua, ci sono delle piante meno e ci sono delle piante più efficienti. Noi ovviamente cosa vogliamo fare? Vogliamo produrre energia e vogliamo rimediare quanto possibile. Vuol dire cerchiamo di fare tutte, o vorremmo cercare di fare tutte e due le cose. Allora, come detto, esistono ancora pochi test, però Phytotec, per esempio, Senap, Indiana, Girasole, esistono, esiste qualche cosa. E vedete anche quanto è differente il mais, quello più a sinistra, non è tanto efficiente, Girasole, poi c'è anche il frumento, ma poi quando arriviamo sulle brassi Cazzea e Senap, Indiana, loro sono molto molto efficienti. E questo solo per il biogas. Poi esiste la stessa cosa anche per le piante, che anche lì molto molto diversamente. E prima avevo dimenticato a dire che in Germania, soprattutto all'Università di Kassel, loro hanno cercato di coltivare o di capire che quale pianta assorbe meno di queste sostanze perché altrimenti entra nel ciclo alimentare. Vuol dire se sanno cosa chi assorbe meno, sanno anche chi assorbe di più. Vuol dire noi vorremmo proprio girare questa cosa. Vuol dire che questo ci aiuta molto, anche quello che hanno fatto negli anni 80-90. E adesso arriviamo proprio al disastro. Io mi ricordo che ero sempre attaccato al televisore e lì era 3-11, no, marzo 2011. Non era 9-11, ma quasi. E comunque, questa si vede la zona. 20 chilometri, ma adesso in un angolo è molto molto di più. Noi adesso abbiamo venduto un impianto anche lì, non in quella zona proibita, ma anche fuori, dove c'era il tsunami e vi posso dire che è incredibile. C'erano le onde fino a 15 metri. C'era una città di 20.000 abitanti, adesso dove c'era la città non c'è più niente. Adesso non ho fatto gli argini per impedire al prossimo tsunami per entrare proprio nella valle. Ma è proprio, solo in quella città lì sono morti da 20.000, sono morti 3.000 persone. Vuol dire, è proprio un disastro, è stato un disastro ancora, adesso no. Però adesso cosa vogliono fare? Vogliono che i giovani restino, che non vanno via e adesso cercano proprio questi progetti dove si possono innanzitutto coltivare il terreno, ma non per l'alimento, vogliono tenere i giovani nella zona perché adesso sono già andati tantissimi, sono andati via e ovviamente vogliono pulire. E questo secondo noi è proprio, sarebbe un sistema, io penso il migliore ovviamente no, ma uno dei sistemi migliori per recuperare tutta questa zona. Allora, scusate, adesso la situazione è quella che ci sono dove c'erano città, dove c'erano i boschi, anche i prati con lo riso, hanno tantissimo riso, è tutto contaminato. Poi ci sono anche le case demolite, ci sono ancora i mucchi che si potrebbero utilizzare per la gasificazione. Adesso l'idea è di combinare biogas e gasificazione. Abbiamo i gas, gli impianti classici, quelli che utilizziamo adesso anche qui in Europa. Comunque dobbiamo poi vedere cosa c'è con la radioattività perché comunque questo è anche automatizzarlo con i roboter perché la gente lì è un po' difficile, ma chiedere ai giapponesi di fare un roboter penso non sia difficile perché ce l'hanno già. Allora, questi sono gli impianti biogas, proprio come sapete i batteri che degradano la biomassa e poi produciamo il biogas che possiamo utilizzare nel motore. In quel caso lì utilizziamo un motore e poi abbiamo un essiccatoio perché vorremmo alla fine tutto il liquido essiccare e anche l'essiccato che è di solito un fertilizzante ma è fortemente contaminato entra assieme con il legno delle case demolito, il bosco, il cippato e anche il digestato secco entra poi nel gasificatore e lì produco energia elettrica, il calore devo utilizzare tutto per essiccare il liquido dell'impianto biogas e rimangono i ceneri. Fatto un breve idea di quello che parliamo, sono 10.000 tonnellate insilato di mais se voglio fare quello, ma meglio adesso abbiamo visto prima anche il senape 10.000 tonne girasole, 10.000 tonne senape, 10.000 tonne rifiuti verdi per esempio questo sarebbe un impianto di 3 megawatt io poi faccio GTS, proprio gasificazione, 10.000 tonne di legno 5.000 tonne di digestato e essiccato allora io ho un output di 25 gigawatt ore di energia elettrica 33 di termica ma quella utilizzo per essiccare il digestato e alla fine però ho 1.500 tonne di solfato d'ammonio perché all'uscita dell'essiccatoio l'aziotto, l'ammoniaca devo recuperare altrimenti inquino e se lo recupero ho poi anche il fertilizzante di nuovo non contaminato quello perché non va in aria i nucleidi per fertilizzare poi i terreni e alla fine di 50.000 tonne di biomassa rimangono di 1.000 tonnellate di ceneri vuol dire una razione da 50 a 1 e questi 1.000 tonnellate di ceneri poi Castor e Back to Fukushima vuol dire perché lì è già contaminato per 6.000 generazioni non lo so Plutonio scusate Plutonio c'è un mezzo tempo di 207.000 anni incredibile e se io facendo un calcolo la superficie contaminata sono circa 100.000 ettari io abbiamo detto un terzo è sigillato dove c'erano le case un terzo foresto, un terzo agricoltura vuol dire che farei 33 megawatt di biogas 33 megawatt di gasificazione e il principio sarebbe quello viene coltivato un harvest che viene raccolto portato fuori perché fuori poi non posso dormire non posso dormire in quelle zone lì devo dormire fuori posso entrare ma non posso dormire e poi alla fine comunque dopo diversi anni dipende dalla specie che coltivo io dico dopo 10-20 anni questa zona dovrebbe essere decontamentata perché per esempio ci sono delle specie che in un anno per esempio il girasole nel primo anno toglie l'85% di Plutonio e questo sono diverse piante che sono cesio sono diversi ok poi vado veloce in Italia per esempio noi in Italia abbiamo in tutto abbiamo tantissimi siti ci sono per esempio Valle del Sacco no lì PET HCH nel latte hanno individuato anche quella sostanza lì molto molto difficile molto pericolosa nel sangue delle persone e comunque ci sono in tutto in tutto ci sono 39 siti in Italia che bisognerebbe bonificare proprio di sostanze molto molto pericolose danno solo di quella valle lì sono 660 milioni di euro e proprio non posso coltivare niente per l'alimentazione sì ok lì ci sono diverse tipologie il pioppo biogas biogas orgo sega elettriticale ma noi possiamo utilizzare quasi tutto se faccio biogas e gasificazione tutto tutto quello che cresce possiamo utilizzare o nel biogas o nel gasificazione così siamo molto molto indipendenti e sì questo è un'idea adesso di più non posso al momento raccontare perché non c'è neanche tanto di più però stiamo nella fase lì col governo anche giapponese per elaborare queste cose stanno al momento stanziano o vogliono stanziare o hanno già stanziato 100 miliardi di dollari per questo lavoro lì non solo per la nostra idea ma anche per il soil washing quello che ho sentito prima anche altre cose non so anche lì un info c'è tanto da fare c'è tanto business e hanno soprattutto bisogno ok grazie mille per l'ascolto e